Passiamo alla prossima relazione, della cura del bambino ammalato alla programmazione di salute, messaggi chiave, Pietro Belli. Buongiorno a tutti, grazie ad Attilio per avermi invitato anche quest'anno al Format. E parlare dopo, alla fine della sessione del mattino non è così facile, soprattutto perché le relazioni che mi hanno preceduto erano di un livello veramente irraggiungibile. Il titolo è un titolo molto pretestuoso, proverò ad entrare, probabilmente molte cose le ripeteremo, perché ieri e oggi sono state date una mole di dati e di informazioni così incredibili e qualcosina magari cercheremo anche di essere un po' più provocatori del solito. La prima diapositiva è per farmi un po' pensare che il pediatra osserva la crescita, perché la crescita è un qualcosa di spettacolare da vedere. Questa mattina si è accennato più e più volte al discorso dei primi mille giorni. Io comincio con la prima mia provocazione in questa nostra chiacchierata, che quello che diceva Barker forse va un po' interpretato. Ed infatti dobbiamo tornare ad un 6-9-18. Cosa vuol dire? I sei mesi precedenti al concepimento, i nove mesi della gravidanza e i primi 18 mesi. Se voi fate un rapido calcolo, arriviamo ancora una volta a questi fatidici primi mille giorni, in cui si forma il tutto. Ma ci ritorneremo con calma. Perché tutto succede? Panos ha detto tantissime cose. Io molto modestamente aggiungo che tutto nasce dal pre e da quello che succede in gravidanza. Perché sono le strutture che si formano che subiscono delle problematiche. Infatti sono i quattro organi nobili che purtroppo giocano il loro ruolo e il loro punto. E il primo è il cervello, dove se noi non lo gestiamo bene durante il periodo della gravidanza, l'abbiamo segnato in modo negativo e per sempre. Perché i deficit proteico-energetici riducono il contenuto neuronale sia di DNA che di RNA. E il secondo e il terzo organo nobile, cuore e polmone, giocano anche loro un altro ruolo importante. Perché se il polmone comincia il suo sviluppo importante dalla sedicesima settimana di vita e link con il sistema cardiovascolare, capite bene che il discorso dell'outcome respiratorio diventa un deficit importante. E poi il rene, un altro che gioca un ruolo importante durante la gravidanza. Voi sapete che i nefroni, i pronefroni, si formano addirittura già dopo 22 giorni dalla fecondazione. E quindi, tornando a un articolo promosso da Valerio Nobili nel 2012, per la prima volta si parla di tutti quei fattori materni che giocano ruolo negativo e che vanno chiaramente a trasformarsi nel tempo, nell'età adulta, a tutte le problematiche di tipo cardiovascolare. E quindi tutto quello che succede, vedete, non è solo un discorso cardiovascolare, ma è un discorso, diciamo, multiorgano, che lo giochi in questo senso. E quindi, se noi lo estremizziamo, capite bene che la letteratura, già da qualche anno, ci dice che la nutrizione materna gioca un ruolo importante e fondamentale. E aggiungo un punto, il discorso delle proteine, perché se noi torniamo al paradosso della Roland Cacherat, è il gioco delle proteine che poi andrà ad influenzare il discorso composizione corporea e metabolismo, giocando un ruolo a tre con la crescita, in questo senso. E si è già parlato anche ieri di macronutrienti, molto velocemente, a volo di gabbiano, andiamo a vedere invece i micronutrienti. Sono stati citati, sono stati più e più volte visti, però molto, molto come una carrellata, voglio soffermarmi su questi catalizzatori enzimatici che lavorano sulla regolazione della sintesi degli ormoni e la crescita. e mi fermo su sei. La prima è la vitamina D, che ormai ha un ruolo predominante e preponderante. E quindi diventa importante e fondamentale il suo ruolo sullo sviluppo e sulla crescita del feto. E se guardiamo questa incredibile diapositiva pubblicata qualche mese fa dal gruppo di Shanghai, vedete cosa può fare la vitamina D in tutto il ruolo che si gioca all'interno dell'organismo. e mettendola, diciamo, da un certo punto di vista sul discorso respiratorio, vedete anche qua che ruolo ha. Ecco quindi, perché mi piace essere abbastanza pratico, ecco quindi che diventa importante e fondamentale andare a capire il perché della vitamina D. Perché? Perché la vitamina D gioca un ruolo importante. Lo stato vitaminico della mamma in gravidanza e l'allattamento al seno influenza la massa ossea a nove anni di età, ma lavora sulla gravità dell'asma e sulla suscettibilità al diabete di tipo 1. è importante durante la gravidanza per lo sviluppo del feto e tutta una serie di interazioni che ha sul sistema immunitario. La regolazione gioca un ruolo importante a livello del cancro, soprattutto a livello del cancro del seno e della prostata e, tanto per riallacciarmi a quello che è stato detto nella precedente diapositiva, la vitamina D gioca un ruolo importante e fondamentale anche sull'autismo, perché il dato di Shubs ci dice che la predisposizione in soggetti con una familiarità, se io ho un apporto corretto di vitamina D, il rischio dal 20 scende al 5%. E poi mi piace anche andare a vedere un discorso sulla dermatite atopica. Questo è un articolo pubblicato qualche mese fa in cui ci fa vedere a 12, 24 e 48 mesi l'effetto protettivo e la supplementazione della vitamina D sul rischio della dermatite atopica. Ecco, quindi, questi, sempre per rimanere sul pratico, diventa fondamentale e importante sottolineare quelli che sono i dosaggi raccomandati dalla consenso spediatrica, proprio perché diventa importante, non è una vitamina, ormai sappiamo è un ormone che ha tutta una serie di caratteristiche. E che cosa dire del ferro? Le funzioni a livello del nostro organismo. Il fabbisogno, il ruolo e i principali fattori di rischio associati all'anemia da carenza di ferro. Ecco, quindi, che già dal periodo neonatale in soggetti prematuri diventa importante e fondamentale l'apporto essenziale del ferro per lo sviluppo cerebrale. E c'è interessante sottolineare che lo status anemico della mamma è un rischio di un fattore per poter avere problematiche nel nostro soggetto. Un livello di vitamina D durante il periodo intrauterino è associato a problematiche e a anomalie di tipo uditivo secondo quello che dice Amin in questo senso. E ancora diventa fondamentale anche il ferro insieme alla vitamina D per un discorso che chi è carente durante il periodo fetale può essere più a rischio per avere disturbi cognitivi e emozionali. E che cosa dire della vitamina B12? Ruolo importante e fondamentale. Ci sono dati in cui ci fanno vedere problematiche importanti in deficit di vitamina D. Risonanza encefalo di un soggetto di un anno atrofia frontotemporale bilaterale. Facciamo una terapia appropriata con vitamina D e un anno dopo la ressonanza encefalo sembra una completa regressione di quella che era un'atrofia cerebrale. Purtroppo i danni neurologici rimangono permanenti e il ritardo motorio del linguaggio diventa molto importante. Ma voi mi direte è un vecchio articolo come un vecchio articolo di O'Connell quando ci fa vedere che la crescita dei bambini a dieta vegana o vegetariana crescono molto probabilmente meno e hanno una statura finale minore dell'aspettativa. Anche questo voi mi direte è un vecchio articolo. Ma che cosa possiamo dire di questo caso clinico della nostra clinica? Soggetto di un anno e nove mesi mamma con dieta vegana non integrata e il nostro paziente di un anno e nove mesi in dieta vegana non supplementata con vitamina B12. Vedete anche qua risonanza encefalo lesioni acute bilaterali a livello di nuclei della base con paresi spastica. Anche qua grande intervento di vitamina B12 follow up 12 mesi la persistenza della paresi spastica rimane. Quindi occhio e mi rifaccio alla consensus conference del 2017 sul discorso dei divestamenti vegani e della nutrizione vegana nei bambini. L'acido folico che anche qua fa vedere che carenza di acido folico abbiamo problematiche di sviluppo a livello cerebrale. E che cosa dire dello zinco? Anche questo gioca un ruolo principale come un catalizzatore enzimatico. Gli alimenti che contengono lo vedete qua diete ipoproteiche o vegetariane possono essere carenti di zinco e portare a quella che è l'acrodermatite enteropatica. E poi mi piace sottolineare ne abbiamo parlato è stato detto di tutto e di più ma mi piace sottolineare il ruolo fondamentale dei probiotici e tornare al primo articolo pubblicato in letteratura nel 2013 dove per la prima volta questo è uno studio nella clinica per la prima volta un uso di un probiotico in soggetti da 600 a 1500 grammi ha permesso di evitare problematiche di enterocolite necrotizzante. Non entro nel merito di altri source di polifenoli che ci sono il professor Bonner ieri ne ha accennato e chiaramente diventa importante e fondamentale come micronutriente e il calcio perché no anche quello diventa importante e vedete come la quantità di soggetti che hanno un adeguato apporto di calcio durante il primo anno di vita è quasi il 100% anche grazie all'altamento al seno però quando arriviamo verso l'adolescenza vedete che solo il 30% dei maschi ha un apporto corretto di calcio calcio che così è semplicemente un piccolo input che vi lascio è ridotta il suo assorbimento del 40% se nei soggetti adolescenti abbiamo un uso importante di bevande gasate e zuccherate ecco quindi che il Mediterraneo Nutrition Group per essere pratico ci fa una specie di decalogo e quindi lo scorro molto velocemente con voi il primo decalogo è quello che se ne è parlato anche prima mamma e papà devono avere una situazione importante e sana ancora prima del concepimento e per esempio come ci dice Wang è importante l'attenzione del discorso del fumo da parte della mamma prima della gravidanza il secondo punto per il nostro pediatra diventa importante la valutazione e la misura della crescita nei primi due anni di vita e abbandoniamo solo l'uso del peso il peso voi mi insegnate non ci dice niente perché questo è un esempio abbastanza banale di una risonanza di un quadricipite di due persone stesso sesso stessa età e se io peso vedete questi due soggetti hanno lo stesso peso ma la composizione corporea è completamente diversa perché il primo ha una grande quantità di massa grassa e il secondo ha una piccolissima quantità di massa grassa quindi cambiamento della composizione corporea completamente diverso quindi andiamo oltre il peso nella nostra pratica quotidiana il punto numero tre è il discorso del dell'allattamento al seno esclusivo nei primi sei mesi ma la realtà in Italia è un po' diversa al sesto mese c'è un qualcosa che ci lascia veramente perplessi questi sono dati non ancora pubblicati sono dati personali di Carlo Agostoni e ci fanno vedere non entro nel merito del latte artificiale o del latte materno ma entro su quello che è la riga gialla il 20% dei bambini italiani al sesto mese di vita è a latte vaccino voi mi direte ma lei è matto cosa stai dicendo sono dati robusti che ci devono far riflettere discorso del divestamento se ne è parlato pesantemente anche questa mattina ecco la finestra la finestra che viene suggerita importante l'uso della frutta e della verdura della verdura direi più che la frutta e soprattutto un altro punto importante fondamentale continuare a ripetere alle mamme di non aggiungere zucchero e sale nel primo anno di vita lasciare che il bambino abbia un suo appetito e gestisca il suo e non ci sia nulla di regalo se il bambino mangia quello che deve mangiare non dimenticandoci dell'acqua il gruppo del professor Battistini sui LARN è stato chiarissimo nella spiegazione e diventa importante e fondamentale l'idratazione ancora una volta la realtà è un po' diversa vedete cosa realmente beve un bambino italiano ma soprattutto guardate che scala ha il bambino italiano e è difficilissimo tornare indietro quando si sale questa scala e poi e poi il discorso ancora una volta scusate se ribadisco il concetto attenzione alle proteine animali diventa molto importante il discorso sul rischio di una quantità importante dell'intake proteico nei primi due anni di vita per le problematiche di peso nel inseguito e poi il grasso non è sempre detto che sia dannoso una piccola e adeguata intake di acidi grassi essenziali diventa diventa molto importante mangiare seduti con la tv spenta e soprattutto non avere la tv in camera perché chi ha la tv in stanza di media dorme mezz'ora in meno tutte le sere rispetto a chi non c'era diventa importante la prima colazione e soprattutto ecco perché prima vi ho parlato del 6 9 18 questo è un dato a 18 mesi guardate come influenza la memoria spaziale e la memoria verbale nel tempo chiaramente come velocità la colazione e il digiuno fondamentale anche questo da questo punto di vista e poi l'attività fisica che diventa importante e fondamentale e credo che il pediatra abbia durante i bilanci di salute abbia un ruolo importante nel valutare e soprattutto nel suggerire l'attività fisica perché e spiega che cosa diventa importante la crescita costante migliora l'apparato muscolo scheletrico e l'efficienza cardiorespiratoria riduce stress e depressione e addirittura migliora il rendimento scolastico e come dice l'istituto superiore della sanità favorisce l'acquisizione di uno stile di vita adeguato con abitudini alimentari virtuose evitando il fumo ed evitando l'alcol ma tornando al titolo della nostra chiacchierata di oggi oggi il pediatra non si limita più agli aspetti diagnostici prognostici e terapeutici ha delle nuove responsabilità la promozione della salute l'educazione e la prevenzione e quindi quello che un tempo era una medicina d'attesa diventa una medicina d'iniziativa e l'ho imparata pesantemente questa mattina il pediatra e la pediatria diventa programmata propositiva preventiva e personalizzata è logico che anche qua è un processo educativo sanitario in cui il pediatra si rapporta anche alla tipologia della famiglia fruitrice quindi basta fotocopie basta ciclostiri che ha la mia età se li ricorda ma medicina personalizzata e come dice l'OMS la comunicazione efficace è un ask praise advise and show chiedi valorizza consiglia e mostra e quindi anche avere opinioni diverse tra di noi diventa importante diventa fondamentale perché perché dobbiamo cercare di evitare quello che è successo fino adesso che praticamente è questa la realtà e il mio take on message è che il nostro soggetto deve avere una nutrizione al di là degli estremismi in cui ci sia uno sviluppo corretto a livello cerebrale e poi permettetemi una punta polemica questi sono dei tagli di ossa e non perché io sono maligno e malizioso questo è un osso normale stiamo parlando di soggetti al di sotto dei cinque anni questo è un osso di una dieta vegana e mi fermo qui con questo mio messaggio grazie ci sono domande se non ci sono domande passiamo poi alla tavola rotonda grazie grazie